Passeggeri indifesi davanti alle decisioni delle compagnie. Due giorni dopo la chiusura della spagnola Spanair, le associazioni di consumatori alzano la voce e chiedono alle autorità misure a maggiore tutela dei viaggiatori. Lo stop di Spanair, con più di 250 voli cancellati ogni giorno, ha creato problemi a 83.000 passeggeri. È ben più pesante l'impatto sul piano dell'economia. 4.000 dipendenti vedono a rischio il proprio posto di lavoro e le proteste sono già cominciate. Dal canto suo, nonostante la società segni in bilancio passivi per oltre 300 milioni di euro, non si esclude la possibilità di un salvataggio, ma i lavoratori si mostrano scettici. Ne abbiamo passate tante, sarà a causa della cattiva gestione, sarà perché ci sono molti interessi politici in gioco, ma il risultato è che un sacco di gente finirà disoccupata. Nel tentativo di evitare la chiusura della compagnia, i vertici che hanno versato ai lavoratori solo un acconto sul salario di gennaio, hanno presentato in tribunale una istanza di fallimento controllato.